Abbiamo disputato una partita egregia e diciamo una partita molto utile per quello che vogliamo fare in queste ultime giornate di campionato, cioè valorizzare alcuni giovani e il calcio sezia è un test molto attendibile per poter provare o comunque testare alcune difficoltà che le partite propongono. Eravamo partiti con una programmazione a lunga scadenza, nelle prime giornate stavamo in una posizione di classifica, forse neanche consona le nostre caratteristiche tecniche oppure di esperienza. Adesso stiamo facendo questi esperimenti per migliorare e per preparare al meglio la stagione prossima. Sì è vero, abbiamo preparato la partita molto bene, solo che la squadra avversaria è veramente forte e è già arrivata in C2 con molte giornate di anticipo, però tutto sommato siamo divertiti e è stata una bella partita, complimenti al calcio sezia. Siamo calati fisicamente, loro si trovano meglio a loro agio su questo campo, noi un po' di meno, però tutto sommato abbiamo retto bene. Quello che ci siamo proposti è di arrivare a fine campionato in battuti, quindi giocheremo ogni partita per cercare di ottenere il massimo risultato. È anche una questione di rispetto per le altre squadre che abbiamo già incontrato, non vogliamo mollare, non vogliamo fare favoritismi. Con questo organico è dura dire diversamente, in fondo il mister ci ha dato una grossa mano tenendo il gruppo compatto, le dodi tecniche di ogni singolo giocatore del calcio sezzo le conoscete anche voi, quindi non sto qui a ripeterle. In fondo, come ha detto il mio collega a Foggia, onoreremo fino alla fine questa maglia, ma più che altro cercheremo di essere leali fino alla fine anche con le altre concorrenti che comunque giocheranno anche i play-off e quindi è giusto portare a termine anche il fatto di essere imbattuti fino a fine stagione. Devo fare soli complimenti ai ragazzi per tutto il campionato e quindi li ringrazio per come si sono comportati sia a livello disciplinare che a livello di allenamenti e tutto il resto. Sono stati sempre dei ragazzi molto umili e anche se sapevano di scendere da categorie superiori e quindi partivano da favoriti da tutti, eravamo considerati favoriti, loro hanno messo l'umiltà giusta per vincere il campionato e ad oggi ancora sono imbattuti. La partita è stata esemplare, abbiamo giocato con sicurezza che già il campionato era alla nostra portata. Per quanto riguarda tutta la stagione come ha detto prima il mister Spagnoletto ringraziamo tutti i giocatori, il mister compreso per l'ottimo svolgimento del campionato. noi già sapevamo, cioè sapevamo, non voglio essere, però immaginavamo questa nostra cavalcata del campionato. Per quello che riguarda invece il prossimo anno cosa succede? Devo raccontare un aneddoto. Il mister all'inizio del campionato ha scommesso con un nostro sponsor che vinceva il campionato a cinque partite prima. Hai diventato milionario allora? Ha vinto la scommessa, una cena per tutti. Il prossimo anno? Il prossimo anno sarà una stagione che sicuramente ci vedrà protagonisti.